Qui si è! Questo è l'EagleCore! E' il sistema semplice per... Ehi, aspettate un minuto! Stai sempre nel video! Questa volta dico che l'EagleCore è l' facile di fare astrofotografia con DSLR e camere di mirrorless. E ora, explico perché! L'EagleCore è la unità di controllo sviluppata da Prima Luce Lab per le persone che vogliono evitare le complicate dell'astrofotografia, che non vogliono usare un telefono e che vogliono un telescopio compatto e portabile per l'astrofotografia di obiettivi del cielo, come galaxie, nebuli o cluster di star. Per farlo, Prima Luce Lab ha integrato un computer che può essere controllato remontamente via wifi da qualsiasi dispositivi, un sistema di potenza che migliora la gestione e riduce il numero di caboli che sono necessari per poter e controllare il telescopio, e un grande software di captura e autoguide optimizzato anche per piccoli display di smartphone. E con la perfetta integrazione tra il computer e la unità di potenza, grazie all'EagleCore poter essere pronta per l'astrofotografia in solo un po' di minuti. Poi, facciamo l'alignamento polaro del montaggio e l'alignamento di star e poi portiamo il montaggio all'obietto che vogliamo registrare. E grazie all'EagleCore il problema di wrapping e dettagli del cable è morto. E ora all'inizio è il tuo smartphone per controllare l'EagleCore e vediamo come. Inizia il wifi del smartphone e connessi il network wifi creato da l'EagleCore poi inizia l'EagleCore e vedrai in real-time l'immagine della camera guida con le star guida You can zoom in the picture to perfectly set the focus of the guide scope until you get pinpoint stars. Select one of the stars you see on the screen and start calibration. If you zoom in you will see the star moving on the screen while EagleCore automatically performs the calibration. When it's done press start guiding and EagleCore will automatically correct the mount tracking errors showing you the guide graph. This way you can easily check if your mount perfectly tracks the object. Now select the acquisition tab and press preview button to get the preview of the image. We can zoom in the image to check for the perfect focus. If we connect to the EagleCore the Sesto Senso focusing motor we can control from here the focus too. Every time we press the button to move Sesto Senso EagleCore starts a new capture that we can see in detail to get the perfect focus. it's really that simple. If we don't use Sesto Senso we can manually focus by acting on the focuser. You just repeat this operation to get a perfectly focused image. Now let's start capturing our images. Select the number of pictures to save, the exposition time for every picture also in bulb mode for very long expositions and ISO sensitivity. If you want you can also turn on the auto-dittering. By pressing the start acquisition EagleCore shows the capture setting and we just press ok to start. During sequence acquisition the auto-guide automatically works. When EagleCore completes capture of first picture it automatically saves in raw format in camera memory card and shows it on our smartphone. If we activate the dittering EagleCore moves by a few pixels our telescope and then starts a new picture. This way when we will stack more pictures will also reduce background noise. now we can zoom in the recorded picture to check in detail and see the results of our capture. It's that simple! That's why the EagleCore is the simplest way to make astrophotography with DSLR and mirrorless cameras.